Si intitola Ricordi le nuvole? Forse i cucini non li abbiamo vedute, forse ancora non esporgevamo i disegni. Avanzano gli anni e ci accuggiamo di loro, perché l'aiuto che aspettiamo ci fa alzare lo sguardo verso le speranze che stanno lì in alto e come loro dispensano veloci un po' di qua e un po' di là uno spazzo di entusiasmo e di felicità.